La connessione internet è diventata un vero e proprio bene primario per la nostra vita di tutti i giorni. Così come l'acqua, il gas o l'elettricità. Con una rete FTTH che arriva fin dentro alla tua casa, tu e la tua famiglia potrete sfruttare il massimo delle prestazioni e godere di tutti i servizi digitali presenti e futuri. Facciamo qualche esempio. La tua passione è lo streaming? Puoi guardare le tue serie tv preferite in alta definizione con zero rallentamenti. Non riesci a mettere d'accordo tutti su che film vedere stasera? Nessun problema. La fibra è multitasking e supporta la connessione simultanea di più dispositivi come smart tv, pc, tablet e smartphone. In questo modo ognuno avrà la possibilità di seguire il suo programma preferito senza interferire sulla visione degli altri. Ami giocare online? Dimentica le interruzioni. Grazie alla rete FTTH o tieni stabilità, velocità e bassa latenza che ti permettono di ridurre i lag, cioè il tempo di risposta dei comandi durante il gioco. In questo modo la tua esperienza di gaming sarà più fluida e reattiva. Partecipi a videoconferenze per studio o per lavoro. È arrivato il momento di dire basta alle frasi interrotte a metà e di affidarsi alla larghezza di banda della fibra per sostenere sessioni di home working e formazione a distanza in alta qualità. La fibra è nella tua casa di domani. La digitalizzazione degli impianti domestici è sempre più diffusa e con una rete FTTH puoi controllarli comodamente anche da remoto. Inoltre la presenza di un'infrastruttura in fibra ottica aumenta il valore del tuo immobile. Vai su fibra.aruba.it e verifica se il tuo indirizzo è già coperto da fibre di Aruba.